Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. La storia è stata ricostruita passo dopo passo, con molto materiale inedito, comprese le immagini del matrimonio di Bossetti con marita Comi, le telefonate della madre al cellulare spento della figlia scomparsa e i video dell'anatomia. Chissà se Massimo Bossetti recita o dice la verità quando si dichiara innocente, durante un interrogatorio subito dopo l'arresto a giugno 2014. Ha affermato di saper piangere a comando, ma le sue lacrime potrebbero essere genuine e copiose. Probabilmente il dubbio rimarrà per buona parte del pubblico. Il caso Yara è stato trattato nella serie Oltre ogni ragionevole dubbio, disponibile su Netflix da martedì 16 luglio, composta da cinque episodi di circa 50 minuti ciascuno. In questa serie, Bossetti appare per la prima volta in video dal carcere, ma non aggiunge nulla di nuovo al caso. Dal commentario emergono verità inquietanti e rispuntano i sospetti sulla maestra di ginnastica Silvia Brenna, che aveva lasciato una traccia biologica sul giubbotto di Yara, e sulle incertezze riguardo agli spostamenti del custode della palestra. Avete visto la docuserie? Credete che Bossetti sia innocente e che la colpevole sia la maestra? Grazie.